ciao bambini oggi è giovedì e come tutti i giovedì alle 18 c'è la chiave di coccoro lo devo dire devo dire il libro è il mio è mio scusate ma devo ricordare perché magari qualcuno si è dimenticato di chi è il librone è il mio che rite vediamo un pochino vediamo che fiava vi racconto oggi oggi è l'ultimo giorno ci sono quelle vacanze estive mi piaceva tanto l'appuntamento del giovedì della contra fiava quindi ci vedremo a settembre alla riapertura delle scuole allora facciamo così oggi vi racconto non una contro fiava ma cantiamo insieme una canzoncina molto divertente vediamo un pochino che canzoncina ecco questa qua questa sicuramente la sapete tutti è una canzoncina molto divertente tutti i bambini la conoscono quanti di voi hanno desiderato avere un gatto nero e tu dovevi dare un gatto nero a me volevo un gatto nero 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 ma hai dato un gatto bianco ed io non ci sto più volevo un gatto nero 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 siccome sia un bugiato con te non gioco più e ricordatevi bianco e ricordatevi che il gatto nero non porta sfortuna e se vi attraversa la strada vuol solo dire che sta andando da quella parte ciao bambini ci vediamo a settembre alla riapertura delle scuole ciao